Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di un modo per aumentare esponenzialmente le vendite ebay senza spendere un euro, senza anticipare un euro e senza aumentare le proprie spese. Ti spiegherò per filo e per segno come puoi incrementare fino al 100% le tue vendite ebay senza investire nulla. Quindi resta con me. Bentornati e benvenuti nel mio canale ragazzi. Come vedete ogni video ha dei piccoli cambiamenti. Questo perché sto creando, sto cercando di creare una zona video ideale. Infatti voi non lo vedete, ho aggiunto softbox, ho aggiunto luci, solo che ancora sto cercando di costruire il setup in modo da avere una zona familiare, una zona semplice per registrare i video. Quindi ogni video potete notare dei cambiamenti. Io ho tolto per esempio il divano, ho messo la sedia, il tavolino sto cercando di capire, ma probabilmente cambierò proprio zona dell'ufficio o zona della casa per registrare, sto valutando. Detto questo, andiamo a parlare subito dell'argomento di oggi che riguarda ebay. Come ormai avete capito, la mia scaletta settimanale è un video riguardo ebay, quindi dropshipping su ebay. Un video riguardo la finanza e gestione personale del denaro, un video riguardo la crescita personale e un video dove parliamo di altri modi legati all'e-commerce o a fare i soldi, come Amazon FBA o altre cose variabili da settimana in settimana, più generali. Oggi quindi andiamo a parlare di ebay e di come incrementare le vendite fino al 100% senza investire un euro, quindi senza uscire soldi di tasca e senza anticipare nulla, senza fare nulla. È un metodo che pochi utilizzano in Italia e che io voglio andarti a sperare. Stiamo parlando delle sponsorizzate ebay o adzi ebay se sei abituato con le terminologie di Facebook che sono in pratica gli annunci pubblicitari. Su ebay ha gli oggetti sponsorizzati, ti permette quindi di sponsorizzare i tuoi articoli in vendita in modo da avere più visibilità. Quando sponsorizzi un articolo su ebay, esso ve l'ha mostrato nella pagina di ricerca in prima pagina o in altre parti del sito come il footer o i laterali del sito. Ora tu dirai, ok, sponsorizzate gli annunci ma devo pagarli, quindi non è... non c'è nessun vantaggio tecnico, non c'è nessun vantaggio economico, no. Qua ti sbagli, perché su ebay tu paghi le sponsorizzate in base a una percentuale della tua scelta sulle vendite. Questo significa che se tu imposti per esempio l'1% del tuo prezzo del prodotto sulle sponsorizzate, quindi è un prodotto che costa 100 euro e lo sponsorizza l'1%, tu pagherai 1 euro su quella vendita solo se l'articolo vende. Significa che tu puoi lanciare sponsorizzate per mesi o anni senza pagare nemmeno 1 euro. Tu pagherai quell'euro, quell'1% o la percentuale della tua scelta solo nel momento in cui l'oggetto e l'articolo lo venderà su ebay e tu incasterai i tuoi soldi. Questo verrà poi addebitato nella tua fattura. Attenzione però, ti ho promesso all'inizio del video che avresti stato in grado di sponsorizzare e aumentare le tue vendite senza uscire 1 euro. Quindi se tu paghi quello 1%, comunque le stai pagando le sponsorizzate. Non ti preoccupare, ora ti sfergo esattamente come fare a sponsorizzarle gratuitamente. Se lavori in dropshipping ovviamente, se lavori con un tuo stop, questo metodo non si può fare, o meglio si può fare pure, si può fare. Il metodo che ti dico è se tu utilizzi 1% perché non ti serve sponsorizzare il 20, 30, 40% per avere più vendite. Io ho constatato nel tempo che basta l'1% nell'attività di dropshipping per avere il doppio delle vendite. Quindi se un account, un negozio che ti vende circa 7 articoli al giorno, sponsorizzando l'1% ti venderà dai 11 ai 14 articoli al giorno. Quindi tra il 60 e il 100% in meno. Non male per mettere solo 1% in più. Ma come fare a farlo uscire gratuitamente? Semplice ragazzi. Se vendete in dropshipping o quindi utilizzate software di repricing come AutoDS, vi basterà cambiare la configurazione nel break-even, che sarebbe la cifra in cui raggruppate tutte le spese, tutte le fees, le commissioni, payroll, ebay, tasse, tutte cose, di un articolo. Significa che è la cifra che se vendeste quella percentuale andreste in pari. A questo punto vi basterà aumentare solo dell'1% o comunque la percentuale in cui state applicando le sponsorizzate e in questo modo il prezzo ve l'ha aumentato automaticamente dell'1% e quell'1% che voi pagate e le sponsorizzate lo recuperate dal prezzo di vendita, che è maggiorato per l'1%. L'1% non fa quasi nessuna differenza nella vostra posizione di ricerca, è un terzo irrisorio e anche se potrebbe scendere leggermente la visibilità che avete su ebay, in ogni caso vi permette di fare più vendite con le sponsorizzate, perché vi permettono di avere il doppio ritraffico. Quindi anche se perdete un 10% o un 15% di organico, in ogni caso starete rende il 100% in più tramite le sponsorizzate di traffico, quindi in ogni caso è conveniente. Se utilizzate uno stop vostro, quindi avete un magazzino, la cosa è semplice, invece di utilizzare un software di reprising, come il dropshipping, come un auto OTS, aumentate i vostri prezzi dell'1% o della percentuale che volete applicare. Non vi consiglio, ragazzi, di utilizzare più dell'1% o 2% sulle sponsorizzate, poiché nei miei test in questi anni non ho visto grandi differenze a livello di vendita tra l'1% e il 2% e il 4%, per esempio, con visto semplicemente aumentare le commissioni da pagare a ebay, dall'1% al 4%, ovviamente. Vi consiglio di stare in range tra l'1% e il 2%. Come utilizzare le sponsorizzate? Facile. Vai sulla tua seller hub, quindi su ebay.it slash sh slash ov w se non ce l'hai attiva, attivala, se sei un venditore. Vai sulla opzione marketing e poi scendi fino a applicare sponsorizzate. Da qui fai crea campagna e prosegui a creare la tua prima campagna. Per poter utilizzare le sponsorizzate su ebay, devi aver registrato un piano mensile di un negozio. Su in Italia ci sono tre tipi di negozi, in America ce ne sono sei. Quindi devi essere un venditore professionale con un negozio registrato. A questo punto potete usare le sponsorizzate e potete utilizzare anche tanti altri strumenti di marketing come acquista 2 e ottieni uno sfondo o similari. Ok ragazzi, questo è un metodo molto semplice per aumentare le proprie vendite su ebay. Uno dei tanti, insieme ad altri metodi che ho spiegato più volte, che continuano a spiegare, metodi che trovate nei link trovati in descrizione come su dropshipping.com, questo e molto altro. Spero che il mio video vi sia stato utile, spero che in questo modo riuscirete a fare più soldi. Vi ricordo gentilmente di iscrivervi al canale, mettere like e condividere il mio video e ringrazio a tutti voi che mi state seguendo. Stiamo diventando una bella community, stiamo crescendo, siamo quasi 700 stetti. Grazie a tutti e aspetto per il prossimo video. Ciao, alla prossima!